Siamo contenti di questa sponsorizzazione nuova, quindi siamo molto contenti di fare questo evento qua. Le divise sono belle, penso che si veda, ed è giusto che una società come Milano abbia una divisa così elegante. Sono importanti per noi e fa molto piacere che ci seguono in tutto il mondo. Siamo contenti e speriamo di dare soddisfazione a loro. Lavoriamo ogni giorno molto bene con il mister, impariamo cose nuove, ci vorrà del tempo, come questo è normale, però qualcosa di buono abbiamo fatto già vedere con il Bayern. Adesso cercheremo di proporre tutto quello che ci sta dando con il Benfica. Sono sfide molto importanti per noi perché comunque ci fanno vedere a che punto siamo con la preparazione. Ci vorrà un po' di tempo, ripeto, ad imparare tutto quello che ci sta insegnando il mister, però sono test importanti e sono sfide bellissime da giocare. Una persona molto preparata, ma di certo non sono il primo a dirlo. Io penso che tutti conoscevano il suo valore e come persona, come uomo è molto bravo, una persona molto tranquilla, che ci fa stare bene ed è importante per noi. Siamo un gruppo giovane come l'anno scorso, anzi ancora di più. Quindi sì, avremo tanto tempo per stare insieme. La fortuna è che quasi tutti già eravamo insieme dall'anno scorso, da altri anni. Dobbiamo continuare ad essere così nidi perché è molto importante per noi. Una stagione migliore per noi, abbiamo quell'obiettivo che ci è sfumato quest'anno, però dovremmo fare di tutto per andare a prendere il quarto posto.